Zuppa di lenticchie e patate, un comfort food invernale Una ricetta dai sapori autentici e invernali, dalla preparazione veloce ma che regala un piacevole comfort food da gustare caldo Una zuppa di lenticchie e patate, con un mix di spezie che avvolge il palato con gusto invernale Perfetto per riscaldare le serate fredde di gennaio Gli ingredienti per 4 persone 100 g di lenticchie 2 patate 1 cipolla 2 carote 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 1 cucchiaino di curry 1 cucchiaino di cumino 1 cucchiaino di paprika dolce 1 cucchiaino di zenzero in polvere 1 spicchio di aglio Sali e pepe QB Olio extravergine d'oliva QB Preparazione Lavare e tagliare a cubetti le patate e le carote Sbucciare la cipolla e tritarla finemente E tritare anche l'aglio Mettere in una pentola un filo d'olio e farvi soffriggere la cipolla, l'aglio e le verdure Unire le lenticchie, tostatele un po' e aggiungere acqua calda per coprirle Aggiungere il concentrato di pomodoro, le spezie, sale e pepe Mescolare e lasciare cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti Servire ben caldo